Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradale regionale. Infipili rallentamenti per lavori tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto nella carreggiata verso Pisa. Arriviamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tramvia. Domani e dopodomani, 7-8 maggio, per un intervento relativo alla messa in funzione del nuovo acquedotto, saranno istituiti restringimenti di carreggiata in via di Novoli all'incrocio con via Paganini. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico aereo, il volo Firenze-Barcellona delle 20 e 20 è al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 21 e 15. Il volo Pisa-Barcellona delle 22 e 30 quest'oggi è cancellato. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Per ora è tutto, buon viaggio!